Foto. I pa-agenci far parte della famiglia reale non sar facile per l'attrice è chiaro che la vita della bellissima attrice, ormai ex, di, Swift, protagonista per ben sette stagioni della serie. Sia destinata a cambiare sensibilmente. Le voci su di lei si rincorrono. E sono per l'opima le lingue. Da quando la fortunata Meghan ha detto esse all'ambitissimo principe d'Inghilterra, Harry, fratello dell'erede al trono William e secondo genito di Carlo e Diana. Ma perra c'è la bellissima Meghan Markle diventata il bersaglio designato da quando stato annunciato il fidanzamento reale, e non solo dai giornali di tutto il mondo, ma anche da amici dell'attrice. Che si sono fatti avanti con una valanga di fotografie private del passato di Meghan. Coprendo tutta la sua vita. Dalla scuola al primo matrimonio della Markle. Fino ad accusarla di essere cambiata a causa della fama. Come nelle favole delle principesse poi spuntata anche la sorellastra cattiva di Meghan. Samantha. Che ha strappato i suoi cinque minuti di Notoriet. Rivelando. Nonostante si sia detta felice per l'imminente unione. Che la decisione della sorellastra non fosse stata sempre del tutto appoggiata dalla famiglia. Samantha inoltre autrice del libro The Diary of Princess Push's Sister. Ovvero, il diario della sorella di una principessa rivista. Noto che le due non si parlino del 2008. Ma al magazine Us Weekly. La sorellastra si detta speranzosa di ricevere l'invito all'evento. Grande fratello VIP. Il vincitore Daniele Bossari. Dell'Hellis Solo 4. Legge non finita qui. Come riportato sul Daily Mail. Ninaki Priddi. Ex dammigella d'onore e amica fraterna della futura sposa del principe Harry. Descriverebbe l'ex amica. Una calcolatrice. Che starebbe portando a termine un piano ben collaudato. Meg ha sempre voluto essere famosa. Non conosceva altra vita. La fama l'ha cambiata. Il tono della sua voce. I suoi modi. Il modo in cui rideva non mi sembrava più reale. So che la famiglia reale era qualcosa che ha sempre trovato affascinante. Aveva uno dei libri della principessa Diana nella sua libreria. E Trevor, il primo marito della Markle. Mi disse che voleva andare a stare a Londra per almeno un mese. Amava l'idea un cittadino comune potesse diventare parte di una famiglia reale. Vittorio Brumotti aggredito a Roma dagli spacciatori. Leggisi vociferava anche che tra Kate. Middleton e la nuova cognata non scorresse buon sangue. Ma la competizione tra le due non sarebbe mai esistita. Se si considera anche quanto la stessa Kate sia legata al cognato Harry. E c'è anche chi la critica per la sua poca regali. William Hanson, esperto di etichetta. Ha svelato al Daily Mail gli errori compiuti dall'attraente californiana. Nella sua posizione. Ha spiegato. Dove rinunciare ai jeans strappati. Alle gambe incrociate. Alla sua camminata che L.H. ha vista andare davanti al suo amato e non dietro o accanto. Come Galateo vorrebbe. Michelle Unziker torna a striscia alla notizia. Leggi certamente. Meghan Markle dovrò superare molte. Prove prima di entrare ufficialmente a far parte della famiglia reale d'Inghilterra. Ma anche dopo dovrò impegnarsi per continuare a farne parte. Infatti, dopo le nozze, dovrò infatti sottoporsi ad un allenamento militare previsto per ogni membro della famiglia reale. Cos' da sapere come comportarsi in caso di un attacco o rapimento. Ma per ora ci pensa il principe Harry a difendere la futura moglie. Specie dai paparazzi. Prima ancora di conoscere Meghan Markle, di cui era fan, Harry disse ad un amico che voleva accanto una donna celebre. Solo una celebrità avrebbe saputo affrontare l'attenzione del mondo intero senza farsi venire i giramenti di testa. Meghan Markle sembra non deludere le aspettative. Alice Cube e due altro su MSN. Bagno di folla per la nuova coppia reale. Mediaset. Sponsorizzato. Offerta Surf Espro i5 con cover type inclusa a soli 979 invece di 1. 323.99. Acquista maggiore maggiore.